Edoardo Donnamaria di recente ha lanciato un flash mob a Roma, precisamente a Villa Torlonia, con tantissimi ospiti di grande fascino. Il famoso voto noto di Forum, che vi ricordo era proprio col sui, dopo l'esperienza del grande fratello VIP, ha lanciato, vi ricordo, il nuovo singolo di cui vi ho parlato, di sentito il cielo stanotte, tutto dedicato alla bella Antonella Fiordesi. E' riuscito a scalare le classifiche di tutto il mondo, o meglio di tutta Italia, e ad ora di aver lanciato questo importante flash mob a Villa Torlonia con una quantità incredibile di persone fan di lui stesso, che sono arrivate proprio per apprezzarlo e per godere appieno di quello che è il suo timbro musicale, di quella che è la sua voce, di quello che è il suo grande talento. Il brano è dedicato ad Antonella Fiordesi, non è mancato neanche lei ovviamente, e si è unita a quel ritmo frizzantino di cui già vi ho parlato in uno dei miei video di questo canale YouTube, che sta letteralmente prendendo piede, più o meno. Dal vostro narratore italiano di YouTube Italia è tutto, mi raccomando di iscrivervi al canale, di commentare, di farmi sapere cosa ne pensate, e di darmi la vostra opinione. Il cupente è il grande Edoardo Dona Maria e la bevissima e simpatica Antonella. Ciao a tutti!